Ben salmone che è tipo quello dei poveracci direi abbastanza sexy come Yotobi è pieno di big money spettacolo il pezzo più caro in assoluto però li richiamo a Marco Toni, mitico e inimitabile si apre oggi una nuova rubrica per la gioia di grandi e piccini ma soprattutto per le nostre papille gustative Seba mangia sushi per noi l'ospite sushi esco di oggi è Andrea Secco ciao a tutti sono qui con Andrea Secco e stiamo per mangiare sushi ah sushi zammai di Shibuya ecco qua che è arrivato il sushino qual è il tuo pezzo preferito tra questi? tra questi? allora guarda ti devo dire, ti indico due i miei preferiti questo e questo il salmone sempre buono da zammina, garanzia di qualità questo però c'è un colore un po' strano sembra a me si ma è buono, è buono oh mio dio il tuo sembra molto migliore però devo dire soprattutto questo eh ma sono pezzi che a me non piacciono molto quindi a te non piace il pesce azzurro giusto? non piace il pesce azzurro e neanche particolarmente il tonno grasso quindi tu lo riesci a escludere questo, 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 questo e non mi piacciono neanche tutti quelli con la tazza tare quindi anche l'anago via questo, più questo è che mi dai quello che ti dicevo prima e questo forse mi ispirerebbe un po' di più però è sempre azzurro mi sa che il mio preferito sarebbe il salmone che è tipo quello dei poveracci in questo perché è quello che costa meno sicuramente no però del mio tipo mi piace l'icura, mi piace potate, mi piace l'icca mi piace, l'icca anche mi piace tanto davvero? a me non ho tanto cioè mi piace il gusto ma non la costruzione e infatti mi sono addirittura fatto cambiare uno dei suoi pesci azzurri con un'icca vedete beh dovresti iniziare con un azzurro teoricamente dovrei cominciare con un azzurro per te, per me, per tutti noi questo è per Sebastiano Serafini iscrivetevi al suo canale raga perché fa video tutti i giorni e vi dice tante quelle curiosità sul Giappone che sono uno spettacolo vi lascio il canale sotto in descrizione iscrivetevi, mi raccomando eh guardate questo bel pezzettone questo pece qua si chiama Kim Medai italiano, non ho la più bella di vedere come si chiami Kim Medai è l'occhio dorato pesce spettacolo se guardate dritto nei suoi occhiali potete vedere me che saluto ok adesso iniziamo questa, che che ha iniziato questo trend? di dedicare il sushi alle genti Marco Tony credo ovviamente la leggenda di Tokyo ok allora vabbè va che roba pezzettone di salmone questa loro li richiama Marco Tony la leggenda di Tokyo il mitico inimitabile gnam che roba ragazzi bene allora io prendo l'altro pezzo di salmone e lo dedico a un altro Marco di Youtube che è Marco Sol Mafia Sol Mafia non so il cognome che ho incontrato di recente ma è simpaticissimo si chiama Marco ma secondo me fa video più simili ai miei come tipologia che è quello di Marco Tony credo in Corea però quindi questo lo dedico a Marco di Sol Mafia con un augurio un augurio o una promessa o una minaccia che è che faremo una canzone assieme a Lilletta guarda lì dico questo bel pezzo di puccio che è uno dei miei preferiti anche questo qua è bello tenero da zammai e lo puccio anche dalla parte giusta perché altrimenti poi tutti mi criticano che lo puccio dalla parte del riso che poi dipende anche lì ho amici giapponesi che questo vale sia per Indy che per il tuo gatto cioè per Lilletta Lilletta ma quanto sei fortunata e questo qua era il più buono fino adesso a fare le intro di Seba ma quanto sei fortunata quanto vabbè adesso mi sa che mi tocca mangiarne uno anche a me io mangerò questo pezzo che ho votato e che è il mio preferito oddio se è il mio preferito devo dedicarlo a qualcuno di importante a Zebo 89 ma certo Zebo 89 oddio bella idea si allora questo Zebo 89 che so che non sai neanche che cavolo sono ma comunque ti voglio dedicare questo pezzo di sushi il mio quinto pezzo di sushi dell'anno e lo mangerò per te buonissimo facciamo come i youtuber giovani quali sono i youtuber più buoni? fanno così che che lo fa? Sebastiano Serafino io non lo faccio io così no i nids i gamer sai ah non so può essere comunque il prossimo è Yotobi il prossimo per Yotobi? eh direi di si però forse è meglio se lo mangio io per Yotobi ah no ma Tommaso no Tommaso lo devo fare io però Tommaso lo devi fare tu quindi dai per Yotobi facciamo che mangio questo qua io perchè questo qua è un pezzo bello costoso ok Yotobi Yotobi è pieno di soldi eh? chi? Yotobi è pieno di soldi? siccome Yotobi è pieno di big money ah si? gli dedichiamo questo qua che è il pezzo più caro in assoluto aspetta che faccio una foto guardate quanto luccica Yotobi grazie per avermi seguito su twitter eh guarda come inzupo viene il ciutolo nella sassina di soglia ah che spettacolo sgocciola per Yotobi yam questo voglio dedicare questo sushi a tutte le persone che aiutano il canale in particolare voglio dedicare a te Yari che stai editando questo video grazie mille mangerò questo pezzo di seppia per te itadakimasu se non conoscete Yari male è un lavoraccio faresti video dedico questo per Tommaso il prossimo è Tommaso in Giappone dedico questo pezzo di sushi a Tommaso in Giappone che non ho mai commentato sotto nessuno dei miei video ma questo potrebbe essere potrebbe essere the one Sommaso per te la decattina iniziale è venuta proprio al top direi è abbastanza sexy questo è l'ultimo sushi l'ultimo sushi a chi lo vogliamo dedicare lo dedico a te l'ultimo sushi per me l'ultimo sushi lo dedichiamo ad Andrea Secco che è già il secondo che ti becchi su un set di 10 pezzi eh mi fai sentire troppo speciale Seba e guarda la stessa percentuale di cose no un po' più alta di cose giuste che ha detto la famiglia surrogata Marco non essere geloso lo sai che in Giappone la poligannia è una cosa accettata davvero? no ovviamente ma l'ha dei pesuricati no non l'hanno è l'unica cosa che non hanno detto lo diranno ci faranno un altro video perché ci prenderanno come fonte ovviamente eh speriamo io gli avevo detto di prendermi ok ci vediamo domani con un altro video di pomeriggio ciao comunque volevo dirvi che nel giveaway darò la coda di questo granchio quindi chi vuole la coda del granchio che ha mangiato Sebastiano Serapini in Giappone attivate la campanella e scrivetemelo nei commenti ah non ve l'ho detto iscrivetevi anche al canale di Andrea Secco se già non l'avete fatto che scemo non vi siete ancora iscritti al mio canale ma voi siete matti raga se potete iscrivervi al numero limitato di canali mi raccomando iscrivetevi a quello cazzo ciao ciao